Lanterna a tutti ragazzi, qui Slamdark Denner di Shonan e oggi siamo di nuovo, come al solito, con i Dallas Mavericks, questa volta in Gera 6, sempre contro i Golden State Warriors. Golden State Warriors che hanno vinto Gera 5 grazie a un paio di canestre di puro talento da parte di Clay Thompson, specialmente quello step back and one segnato sopra J.R. Smith, tra virgolette così. E possiamo già vedere che avevano fatto già un cambiamento, a livello del quintetto titolare, inserendo Damien Jones al posto di Marius Spades. Diciamo che volevo mettermi una maglia un po' diversa, quindi ho messo quella verde. Cominciamo abbastanza male, lasciando questo canestro facile e questa tripla break AD, che però per fortuna era solo da due, perché comunque volevo cercare di chiuderla, almeno in Gera 6, anche perché ritornare a Gera 7 non è il caso. Curry palla recuperato in contropiede per la schiacciata di Novitski, che non è un grandissimo schiacciatore, nonostante la sua altezza, ma diciamo che l'atletismo non fa parte del suo gioco, è più che altro l'avere un pieno uso dei propri mezzi e soprattutto una coordinazione fuori dal comune, a mio parere, però poi così. Qua Curry va dentro, una specie di animazione strana, un floater più o meno, comunque va abbastanza bene. Palla fuori per dir che sbaglia questo tiro, rimbalzo di Damien Jones, Raul Neto questa partita ha fatto per lo più il passatore, come si vede qua, palla per Damien Jones, che comunque ha preso il rimbalzo del corso subito, molto veloce il ragazzo. Damien Jones che sarà stato al secondo anno in questa stagione. Esce fuori Steph, rilascio quasi in teoria perfetto, la barra era piena, comunque in post Raul Neto, palla per Damien Jones. Quello non era passi comunque, o doppio palleggio perché non aveva interrotto, aveva perso semplicemente, comunque semina Rudy Gobert, prova ad andare in contropiede con Jason Tatum, non ci riesca ad andare, palla per J.R. Smith che la ripassa a Rudy Gobert che da sotto riesce a segnare molto semplicemente. Un layup da sotto molto semplice. Pic e roll ancora tra Jason Tatum e Rudy Gobert che porta però a un bel giropalla per la tripla di J.R. Smith, J.R. Smith che dall'angolo ha soprattutto specialista dell'angolo, quindi direi che va bene. Interferenza a canestro di Clay Thompson, siamo avanti di due, la partita è ben cominciata, comunque diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti al momento di essere così. Bisogna cercare comunque di chiudere come dicevo in precedenza perché andare in gara 7, nonostante potremmo giocare in casa, è comunque rischioso contro i Warriors. Anche solo a livello di pura testa non andiamoci a giocare a gara 7, sarebbe così. Però anche solo a dire guardatevi i cartellini mentali che hanno le tre stelle dei Warriors che sono in questo caso in campo, il rischio è molto alto che questi qua ci abbiano tutto pompatissimo in alto. Bella uscita comunque per Kyle Corver a parte i discorsi di gameplay e cose così, le meccaniche di gioco, bella uscita di Kyle Corver che stesso schema stavolta riesce a essere coperto da Kyle Corver, eh sì da McCaw. Allora palla in post, cioè va in post Brandon Bass che dovrebbe avere una situazione di vantaggio nei confronti di Kevon Looney e infatti riesce a segnare. Palla qui per De'Aaron Fox che prova a passarla, poi alla fine chiama Piccarol perché lo schema tardava comunque a far uscire Kyle Corver. Palla per TJ Warren che non riesce a fare niente, la palla in post da Brandon Bass che è in una situazione di vantaggio su. Brownette va a schiacciare così dal posto, più 7 momentaneo, direi che abbiamo fatto un buon parziale soprattutto con la panchina. La panchina di solito è abbastanza fondamentale per una squadra che vuole vincere. Terence Ferguson non riesce a passare la buonissima difesa di Klay Thompson, allora c'è Curry che lavora contro Patrick McCaw, prova a smarcarlo, non ci riesce. Alla fine prova ad andare in post, riesce a spingerla abbastanza. Palla per Rodi Gobert che riesce a segnare di nuovo da sotto, si erano riportati sotto a meno 4. Palla in questo momento del Raymond Green, troppo libero, non ho capito come. Kevin Durant che segna questa tripla, meno 1 al momento. Contropede guidato da Hollis Thompson, uno dei miei figli prediletti di questo NBA 2K17. Veramente molto forte. Palla per, tendenzialmente era per lui, ma comunque riparte un altro schema. Allora, pick and roll per Rodi Gobert e Steph Curry, ma alla fine porta lo scarico per Hollis Thompson che segna la tripla. Hollis Thompson però chiaramente è forte in attacco ma non abbastanza in difesa. Allora, difesa un po' scarsina su Durant e Durant segna questo quasi tripla. Poteva benissimo fare un mezzo step back, tanto sarebbe stato libero uguale. Passa molto facilmente anche Klay Thompson, abbastanza easy questo smarcamento. Subito dopo la transizione offensiva, questa volta col pick and roll di Donovitzki, poi va in post. Post fade contro il ginocchietto. E poi, ancora una volta, Kevin Durant per il meno 2. Mamma mia, Kevin Durant questa partita l'ha giocata abbastanza bene. Va dentro qua Steph, che diciamo il rilascio non era del migliore. Chi ha osservato Steph può vedere che per un momento si è tenuto la faccia e ha l'iconcina dell'essere infortunato. Ve lo dico già, non è niente di che, sono andato a controllare mettendo in posa la partita e Kevin va a schiacciare un po' forte. Comunque sono andato a controllare, semplicemente si è rotto il naso. Avrà preso una gomitata in faccia da McCook e gli ha rotto il naso. Bravo che rompi il naso ai tuoi vecchi compagni di squadra. Va dentro Clint Capella, che dopo il pick and roll riesce a segnare. Pick and roll, diciamo che si fa sentire. Esce dalla rimessa Clay Thompson troppo libero, troppo facile, meno uno ancora per i padroni di casa. Diciamo che non dovrebbe giocare così, ma comunque anche loro non dovrebbero giocare così con Raul Neto. Anche perché quel canestro è veramente troppo facile. Va ancora una volta però Clay Thompson, che di nuovo segna per i più tre, sempre dei padroni di casa. E questa volta nessuno si accoppia, nessuno si accoppia. Alla fine va a segnare senza problemi. Più cinque, a diciotto secondi dalla fine, comunque guidiamo la transizione offensiva. Prova ad andare dentro, Darren Fox non va bene. Allora passa fuori per Kyle Curve, che quel tiro ce l'ha per la tripla, meno due momentaneo. Comunque, siamo quasi a metà partita. Direi che è una partita abbastanza accesa da tutte e due le parti. Ancora canestro di Clay Thompson, infermabile, ok. Va bene. Comunque provo il tiro della disperazione con Darren Fox. Non segna, chiaramente. Siamo al momento quindi sotto. Sotto e per la prima volta stavo tirando con una percentuale, cioè per la prima volta, in una partita che vi faccio vedere, è la prima volta che tiro con una percentuale più bassa dei miei avversari. Sto facendo letteralmente meno statistiche, meno rimbalzi, meno assist, ma più stoppate e più palle rubate. Direi che può andare bene così. Clay Thompson già con 15 e Steph 13 e 4 assist. Diciamo che stavo facendo fatica per uscire subito da metà partita. Comunque, rilascio dall'angolo non buonissimo di Jason Tatum, che comunque segna. Meno tre momentaneo. Siamo appena usciti una volta, mi ricordo quando ero più piccolino, che avevo sentito dire da proprio coach Dan Peterson e ancora a tripla di Jason Tatum, che si capisce come reagirà una squadra nel secondo quarto, qua difesa colpevole di Gerard Smith and one per Clay Thompson, che i primi possessi e specialmente i primi due possessi dopo l'intervallo faranno capire come reagirà una squadra se è sotto o è sopra. E quelli sono fondamentali. Tiro dal palese Gerard Smith con la palla che gira un po' intorno al ferro per il più uno momentaneo. Siamo otto minuti dalla fine del terzo quarto, comunque cominciato da poco, si smarca Raul Neto, prova ad andare dentro, farà un passaggio della miseria per KD, che questa volta segna, rimbalzando un po' sul ferro. Mamma mia che passaggio ha fatto Raul Neto, quel passaggio lì è praticamente senza angolo visivo. Qua, però, troppo libero Dirk Nowitzki, che nonostante rilascio non ottimale, comunque riesce a segnare. Diciamo che non puoi lasciare così spazio a Dirk, anche se non è proprio Steph Curry da tre, ma Steph Curry ce l'abbiamo in squadra. E intanto, non so se avete visto la tripla che ha segnato Durant, ma viene considerata tripla, ma il piedino era lì. Il piedino era lì sulla linea. Particolari, particolari, però diciamo che non stiamo a guardare il peli nell'uovo. Siamo momentaneamente sotto D7, però. Prova ad andare dentro, allora, Dirk è contro Raul Neto, ne esce un jumper comunque non contestato, perché Raul Neto è troppo basso. Siamo sotto D5, bisogna cercare di rimanere comunque in contatto, perché è importante, soprattutto eventualmente per entrare nel quarto periodo. Deron Fox, allora, passa la palla per il jumper di Clint Capella. Cos'è successo? E infatti la 2K, visto che ha detto, scusami, segni jumper con Capella, cosa vuol dire sta cosa? Facciamo un canestro cheese, molto cheese, con Kevin Durant. Va bene, dai, facciamolo un canestro. Meno 7, quindi, va Kevin Lune che la passa, di nuovo sotto a Kevin Durant che ancora segna di tabella. Meno 11 addirittura, a un minuto, praticamente un minuto e mezzo dalla fine del terzo quarto. Stavo cominciando a preoccuparmi, perché meno 11, cavolo, meno 11, poi sono tanti comunque da recuperare. Allora, palla un po' brutta per Brandon Bess, che comunque ha un vantaggio rispetto a Terrence Ross. Palla per Clint Capella, che da sotto sbaglia, ma poi prende il rimbalzo e segna per il meno 9. Beh, bisogna rimanere comunque sotto la doppia cifra. Brutta difesa di TJ Warren, veramente, io mi stavo muovendo, ma TJ Warren era troppo lento. Ancora canestro di Kevin Durant, quindi sotto di nuovo di 11. Esce J.R. Smith con questo schema che a volte viene, a volte non viene. Quindi rilascio perfetto per lui e J.R. Smith con già un paio di canestre importanti in questa partita. Si vede che è un veterano, e sto facendo le virgolette con le dita. Che di comunque la passa a Mary Spence, che la ripassa a Kevin Lune, che la ripassa a Kevin Durant. E di nuovo Kevin Durant da 3 punti per il meno 11 di nuovo nostro. Mamma mia, Kevin Durant infermabile, proprio immarcabile. Come diceva una volta Federico Buffa, con lui difendi con Rosario in mano, perché sto qua è alto 2-11, fa le stesse cose di Seth Curry, però è alto 2-11. Allora, tiro dal palè, J.R. Smith che ancora segna per il meno 8. Due tripli importanti nel lasso di poco tempo per J.R. Smith, veramente importanti. Sul Piccarol, brutta difesa di T.J. Warren, pareggio all'estero e tiro per Kevin Durant, che segna di nuovo per il meno 11. Kevin Durant con una scarica incredibile di canestri, anche abbastanza difficili. Sbaglia una tripla per lui abbastanza facile di Seth. Va allora, passaggio bruttissimo, fuori equilibrio, e segna ancora Kevin Durant per il meno 15. Meno 15. Dopo un paio di liberi però torniamo sotto di 13. Allora bisogna cercare di fare qualche canestro facile. Allora, provo a chiamare Piccarol con Steph. Allora, molto libero da 3 punti, prova a segnare, e segna ancora da... Eh, segna ancora. Segna da 3 punti, Steph, molto importante. Siamo sotto questa volta solo di 7. Esce per un tiro dalla media abbastanza facile per lui, soprattutto con anche il badge, mi ci dà della media per Jason Tatum. Siamo sotto di 5 in questo momento, siamo abbastanza rientrati. Come vedete, non segnavano da un paio di minuti i Warriors, quindi sono riuscito a riportarmi sotto. Volendo, ci stava il tiro con Steph. Allora, non tira subito, ma tira adesso! Tira adesso per il meno 2, a 6 minuti e mezzo dalla fine. Ricopra pure palla! Attenzione, va Jason Tatum, che tira e prende il fallo! End one! End one per l'88-86. Superiamo i padroni di casa, vediamo se metterà pure il libero supplementare. E segna con rilascio perfetto, quindi ho detto prima che entrasse, ma va bene. Tant'era entrata. Comunque, 89-88 il punteggio. Chiaramente non può tenere il passo di Dremon Green, però che palla! Che palla di Terence Rose o Damien Jones, non lo so che è passata per l'80-89. Palla bellissima di Terence Rose per... Klee Thompson è ancora da 3, aveva recuperato, ma siamo di nuovo sotto di 4. Vabbè, 5 minuti dalla fine, non è niente di che. Allora prova a gestire un attimo sui blocchi, ma alla fine non esce niente. Richiamo un pick and fade questa volta, quindi pick and pop con... Dirk Nowitzki non se ne fa niente, ma va dentro, prende un paio di spallate, ma comunque niente fallo. Tiro insensato da 3 punti di Terence Rose, prende il rimbalzo, dire che siamo sotto di 2 punti in questo momento. Porta su palla J.R. Smith. J.R. Smith non è noto per la sua intelligenza dal livello cestito, quindi chiama un pick and roll, uno schema che gli si addice, molto più semplice. Allora va dentro, un layup di sinistro e segna, segna, parità, 93 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Passa troppo facilmente, però Damien Jones ancora 95-93, tutto si deciderà in questi ultimi 3 minuti e mezzo. Palla per... qua, su questo schema che vedete fare spesso, esce abbastanza bene. Steph che ha abbastanza spazio, spara e segna per il più 1, 96-95. Allora palla in mano anche di... Klee Thompson da lontanissimo! Mette anche questa, 98-96, Klee Thompson con una partita delle partite, ci verrebbe da dire. Allora pick and roll con Steph, potevo tirare potenzialmente, era molto libero, c'è anche molto spazio, ma preferisco di no. Comunque pick and roll, Jason Tatum, Rodi Gobert, palla abbastanza fortunata, ma va a schiacciare. Di nuovo parità 98, 2 minuti e 36-35. No, anche questa, no anche questa, no anche questa, tripla in step back dall'angolo. No, anche questa no. Molto spazio però per Dirk, che mette anche questa! 100-101 pari. Dirk ha messo una triple importantissima. Momentaneamente Klee Thompson prova a lavorare, va a lavorare contro Jerry Smith. Jerry Smith non è un grandissimo difensore. Comunque prende il rimbalzo. Da sotto abbastanza libero, sbaglia! La palla gira intorno al fatto, sbaglia. Calma, calma, calma. Qua bisogna calmarsi, bisogna andare molto tranquilli. Anche se invece non vado tranquillo, vado a schiacciare con Jerry Smith. Molto semplice. Se si possono rubare due punti su queste azioni, meglio rubarli. Perché non si sa mai quando la CPU te li prenderà. Comunque. Esce Jason Tatum prima dell'uscita di Steph. Comunque Steph ha ancora un sacco di spazio. Raul Neto rimane troppo indietro. Ancora Steph mette un'altra tripla. 106-103. L'unico non contento era da Aaron Fox perché gli ruberà sicuramente il posto. Sbaglia ancora Clay Thompson però a 1 minuto e 18 siamo avanti di 3. Bisogna gestire bene questi possessi. I possessi in cui si avanti sono importanti. A 1 minuto e 13 manca poco. Quindi dovrebbe arrivare un blocco di Dirk Nowitzki. Prova ad andare dentro allora con il Steph. Palla fuori per Dirk. Rilascio perfetto. La palla al dito. 109-103. A 1 minuto dalla fine, 40 secondi dalla fine. Allora fanno fallo perché sono sotto di 3. Dopo rimbalzo in attacco questa volta di Rudi Gubert. Cioè in realtà difesa nostra. Quindi segna il primo. Non è un grande tiratore ma comunque bisogna vedere se segnerà anche il secondo. Rilascio perfetto. Segna anche il secondo. 111-103. A 40 secondi dalla fine. Mai dare per morti questi Warriors. Quindi difendo, difendo. Ma alla fine Damien Jones libero. Quindi 105-111. Bisogna vedere qua cosa voglio fare. Palla a Jason Tatum. Per una strana ragione. Ma perché era semplicemente più libero. Allora prova a sprecare il più tempo possibile. La palla era per Dirk ma arriva a Steph. La palla fuori per... No, non è il caso di tirare con Rudi Gubert. Allora fallo su. Jason Tatum che è un ottimo tiratore di liberi purtroppo per loro. Vediamo se segnerà il primo. È un po' stanco. Lascio rifiatare e poi tiro. Con 84 la palla entra. 112. 112-105. Rilascio perfetto sul secondo. 113-105. Manca pochissimo. E poi forse potremmo approdare in finale. Dopo una rimonta incredibile. Soprattutto quella nell'ultimo periodo. Palla imposta a Clay Thompson che ci mette un po' per andare a tirare. Prova a uscire. Palla a Demian Jones che prova ad andare dentro. Demian Jones di nuovo questa volta brutta animazione mia. Cioè brutta animazione, brutta scelta mia. Sotto di 6 questi Warriors. Palla ancora per Jason Tatum che stavolta la prende. Prova a passarla a Dirk Nowitzki. Purtroppo Dirk Nowitzki addirittura ha un miglior tiratore. Purtroppo per i Warriors è un tiratore migliore di Jason Tatum. Che segna il primo. Rilascio eccellente. Va benissimo. Siamo più 7. Ritira. Tira ancora il secondo. Rilascio un po' bruttino. Ma la palla entra lo stesso. 105-107. A questo momento i Warriors mi verrebbe da dire che devono contemplare la sconfitta di gara 6. Durent tira anche questa. E segna anche questa. Ha lasciato dove ha ricominciato. Comunque a 3 secondi dalla fine possiamo dire. Senza niente a raggiungere. Siamo campioni della Western Conference. Approdiamo in finale. Con una partita al cardiopalma. Perché ho le pulsazioni aumentate. Io che la sto commentando dopo averla giocata. Non potete immaginare mentre stavo giocando come ero. Vinciamo 115 a 110 comunque. E siccome eravamo fuori casa non possiamo festeggiare davanti a tutto il pubblico. Quindi festeggiamo. Alzala al cielo. Non capitano perché capitano sarebbe Dirk nella logica. Però comunque. Alzala al cielo più forte della squadra. E questi sono i tabellini per questa partita. Abbiamo Steph 33-12. Poi Jason 25. Dirk 24. JR. JR ha giocato una partita memorabile. JR segnatevelo. Ha giocato una partita memorabile. Sono anche entrate molte triple. Questa partita. Ma allo stesso tempo sono entrate anche di là. 19 su 31 è assurdo come statistica. Ma sono entrate pure di là queste triple. Cioè loro tiravano a volte senza senso. Quindi direi. Cioè sono entrate un po' meno. Però tiravano delle triple ancora peggio delle mie. Quindi capitemi questi qua. Ci siamo capiti. Kevin 44. Clay in due hanno segnato 80 punti. Comunque in finale andremo ad affrontare i Chicago Bulls. Per me oggi è tutto. Ci vediamo nella gara 1 di finale contro i Chicago Bulls. Un salutone. Ciao ciao. Ciao ciao.